E recita così, dal profondo della notte che mi avvolge, buia come un abisso che vada un po' all'altro, ringrazio qualsiasi Dio esista per l'indomabile anima mia. Nella feroce morsa delle circostanze, non mi sono tirato indietro, ne ho gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre a questo luogo di collera e di lacrime, incombe solo l'orrore delle ombre, eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castigli la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Questa le scrive Matteo Pertietti. Questa le scrive Matteo Pertietti. Matteo Araccio. Matteo, in 13 anni di lotte, durante la sua vita non ha mai piegato la testa. La vita per vincerlo ha dovuto spezzarlo. Quindi è proprio questo, forse è la cosa che lo descrive meglio. Io sicuramente non sarei riuscito a fare meglio di così.